Siamo in un nuovo video di Clash Royale Oggi giocheremo delle partitazze Ed erano e saranno molto carine Quindi giochiamo Aspettate Ok, prendo questo, ho sbagliato Prendo le bellissime monetine Bene, cominciamo Fra tre, due Quindi cominciamo fra tre, due Ma che cosa? Tu Sì, tu Beh, è meglio insomma Devi arrivare almeno i cento iscritti O se no Beh Meglio che non ti dica cosa succederà Ma che? Ragazzi Ma chi era quello? Però ha detto di arrivare i cento iscritti Vi prego ora Raga, vi prego Dovete aiutarmi ad arrivarci Ai cento iscritti Sennò quello lì Non ci ho detto cosa ci fa Ma Beh, ho un po' paura Comunque le partite le faccio Anche se Ormai Un po' di paura ce l'ho Vai Mamma mia Ora sono un po' spiazzato Dopo questa cosa Dove arrivare i centi iscritti Vi prego Fatemi arrivare Non ci ho detto neanche come si chiama Qualcosa del genere Magari Ci sarebbe stato d'aiuto No No, tizio Ho il gran cavaliere Che tampone Ok Mi devo dimenticare quella cosa Veramente mi ha spiazzato Questo Questo C'è giù Non morì Sono troppo fortissimo Non riesco proprio Non ho fatto niente ancora A parte che non ho ancora usato la mia combo Che voi sapete Cioè Il 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 pecca Con lo stregone Princess E Lui Lo stregone elettrico E' quella che mi fa vincere sempre Cioè Almeno la Qualche volta mi fa vincere Ero che la torno Mannaggia Il primo danno gliel'abbiamo dato ora Vai Ma che canto nei video Oggi mi viene di cantare A caso No Era ma fregato Ho perso Cavolo Oddio 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 Ora Oggi Le perderò tutte Perché Mi ha spaventato Veramente Raga ma C'è Io faccio uno youtuber Per divertimento Ma se ci sono queste persone Dovano cominciare A fare Un po' meglio Sti ridi Che te ridi Ma che te ridi Non so se dire E' scupido O no I danni qui arrivano Veramente Che danni che succederanno Seriamente Non so più dire Nananana E nullanana Seriamente Dico Perderò Col Col dito 3 3 3 3 4 3 4 6 7 7 8 8 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 13 15 15 15 15 15 16 16 17 un 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 gigante che non è da meno perfetto perfetto aiuto, aiuto, aiuto questa la perde benissimo, così metto questa, questa sì ok, ok, ok sta tornando un po' il tutto dagli 500 dai, se quest'anno la vinciamo ma rabbia ma dobbiamo vincere 400 un po' il tutto minatore attenzione il minatore no è la virge vabbè comunque ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e cercate di arrivare ai 100 iscritti vi prego beh e al prossimo video ciao ho detto ciao